Mi presento, sono Massimo Sodini, architetto e quello che vedete è il risultato di un progetto di master tenuto all'Università di Roma La Sapienza che ci ha dato grande adito al di fuori dell'Italia, l'abbiamo presentato a Berlino, lo presenteremo a Graz con delle documentazioni, le ultime fatte. Mi presento, sono Silvia Lapergola, sono architetto, sono stata chiamata da Massimo per dare una consulenza su questo progetto e la collaborazione è stata soprattutto per la realizzazione di un prototipo, è stata un'esperienza veramente unica quella di poter trovare da una parte uno sponsor che credesse in noi e che quindi volesse investire del tempo, dell'entusiasmo e anche del denaro.